Arriva ad un primo importante risvolto l'intenso lavoro condotto dalla squadra mobile della questura di Crotone nell'ambito dell'operazione Ora di Punta, scaturita dall'assalto a un'autovettura con a bordo vari soggetti con l'esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco nel gennaio scorso nel quartiere Fondo Gesù. Il giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Crotone, dottoressa Romina Rizzo, all'esito del giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, ha emesso 11 condanne nei confronti di altrettanti imputati responsabili a vario titolo dei reati di tentato omicidio, detenzione illegale di armi e spaccio di sostanze stupefacenti, infliggendo condanne per i vari soggetti coinvolti dai 4 ai 15 anni di reculsione. Le indagini condotte dalla squadra locale mobile hanno dimostrato che la sparatore era l'epilogo di un regolamento di conti legato al controllo del mercato della droga tra due bande rivali, anche dopo che nel dicembre dell'anno precedente era stata portata a termine una altra importante operazione di polizia giudiziaria. L'escalation di violenza era iniziata con il raid di un gruppo criminale all'altro, cui era poi seguito l'atto vendicativo la mattina del 9 gennaio 2019 con la sparatoria contro l'autovettura sulla quale si trovavano i rivali. Nel quartiere Fondo Gesù, nei pressi di una nota autostazione cittadina, che vista l'ora in cui si è verificato l'agguato, era gremita di pendolari e studenti. Dunque dopo l'operazione Tifisone, un altro risultato importante raggiunto dagli operatori e le operatrici della polizia di Crotone.